Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su Arduino In questo video vedremo come far funzionare questo componente che non è altro che un servomotore ovvero un motorino che noi possiamo montare sulla nostra breadboard e quindi far muovere poi con il nostro Arduino Lo troviamo nel nostro kit in questa bustina più grande con dentro alcune parti che noi possiamo attaccare al nostro motore chiamiamole che ne so alcune eliche per esempio c'è questa che è rotonda quest'altra un po' più affusolata, più ovale abbiamo questo indicatore come quello del tachimetro e questa X che possiamo montare per prenderle, cioè per montarle è facilissimo c'è un buco più grande, è uno più piccolo quello più grande si preme qua sopra e si monta ok, basta soltanto spingerlo io monterò questo qui perché sarà più facile da seguire per farvi degli esempi benissimo come facciamo a utilizzare questo servo? beh, intanto dobbiamo collegarlo al nostro Arduino teniamo conto che il servo ha tre uscite ok, allora sono non so se lo vedete ok, forse così è meglio vedete, lui ha tre uscite con tre colori diversi quella più scura che nel mio caso è marrone penso che sia anche nel vostro caso marrone è quella della terra della GND quindi ci metto un cavetto nero quello centrale il cavo arancione anzi diciamo più rosso che arancione è quello della corrente quindi dei 5 volt perché il nostro servo userà i 5 volt e quindi ci metto un cavo rosso l'ultimo cavo è quello che serve a dire appunto a mandare al nostro servo il segnale per poterlo far girare insomma e io lo identificherò con un cavo giallo ora il cavo nero che abbiamo detto essere la terra lo colleghiamo sulla nostra breadboard sulla parte diciamo negativa quindi dove c'è il blu no? come abbiamo sempre fatto quindi qui quello rosso io lo collego sulla parte rossa quindi quella del polo positivo mentre quello giallo lo vado a collegare direttamente sull'arduino al pin 9 dei pin analogici eh scusatemi dei pin digitali ok quindi questo qui il pin 9 avvicino un po' il servo perché altrimenti il cavo non è abbastanza lungo ok beh direi che ci siamo quindi così il nostro servo è montato cavo rosso è l'alimentazione quindi dobbiamo collegare con un altro cavetto i 5 volt dell'arduino alla fila del più benissimo mentre colleghiamo una gnd qui col cavo nero alla fila del meno in questo modo ovviamente la corrente parte dal cavo rosso arriva su questo cavo rosso che è quello collegato al servo il servo funziona e quando la corrente torna indietro ritorna indietro sul filo nero del servo che va sul filo nero del nostro arduino che è collegato alla gnd quindi il nostro circuito è chiuso ora direi che per questo video ci possiamo anche fermare nel prossimo video vediamo come programmare il nostro nostro servo appunto per farlo girare di di 180 gradi perché questo servo qui gira soltanto di 180 gradi quindi fa questa rotazione vedete io lo posso anche muovere a mano fa questa rotazione qui per soltanto 180 gradi poi se ne volete uno che faccia la rotazione da 360 in commercio esistono però dovreste cercarvelo voi e comprarvelo diciamo a parte non è incluso nello starter kit se volete io vi consiglio come sito arduino che è un sito diciamo molto famoso per componenti di arduino ed è quello da cui io prendo sempre dei nuovi pezzi quando mi servono va bene ragazzi quindi per questo video ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video per programmare il nostro servo a dopo e ci vediamo